Produttori agricoli esasperati a causa dei cinchiali che ancora una volta hanno prodotto danni rilevanti, questa volta distruggendo intere coltivazioni di Gran Turco. Una situazione che ha spinto nella giornata di ieri i referenti della Coldiretti Salerno a recarsi sul posto per valutare i danni prodotti dagli ungolati alle aziende del Vallo di Diano e degli Alburni. Danni che hanno riguardato intere culture di mais, ma anche uva, ortaggi vari, pomodori, senza considerare danni alle strutture realizzate dai contadini a protezione delle loro coltivazioni. Un incubo per chi investe lavoro e denaro nell'agricoltura e su cui è ora indispensabile intervenire con misure serie, come evidenziato da Beniamino Curcio, responsabile del settore agrario forestale della comunità montana Vallo di Diano, che ieri ha accompagnato i referenti di Coldiretti Salerno nel sopralluogo all'interno delle aziende colpite dall'incursione dei cinghiali. Il problema è serio, ci sono questi agricoltori di buon abitacolo, ma non solamente di buon abitacolo, anche di padure, diciamo sì, del territorio che oramai non ne possono più, perché non sanno a chi si devono rivolgere, non sanno quindi che cosa fare di fronte a queste emergenze. Questa è una vera e propria emergenza. I cinghiali sono animali particolari, sono particolarmente avidi di colture come il mais. In questa fase c'è il mais ceroso, queste aziende zootecni, quindi hanno questi campi di mais ceroso. Gli allevatori sono esasperati perché questi cinghiali arrivano in questi campi e distruggono, diciamo sì, aree intere all'interno di questi campi di mais. Chiaramente gran parte della superficie che viene danneggiata non è più utilizzabile e chiaramente questo crea dei danni economici. Ma a parte l'aspetto economico, l'aspetto più delicato è che noi parliamo di aziende agricole che sono aziende produttive, sono aziende molto importanti. E loro fanno gli imprenditori agricoli non perché sono alla ricerca di contributi, ma perché insomma alla fine devono lavorare, devono produrre e dall'attività agricola e dell'allevamento zootecnico poi alla fine ci deve essere un profitto. Io credo che le misure che sono in atto non sono sufficienti perché l'emergenza cinghiale non solo persiste ma addirittura si incagrinisce. E chiaramente questo significa che siamo in una situazione straordinaria, ci vogliono misure straordinarie. Le cose fatte anche egregiamente sia dal parco ma dalla stessa regione significa che non sono sufficienti, dobbiamo fare qualcosa in più. Probabilmente ci vuole qualche misura anche di tipo giuridico, nel senso che bisogna rivedere la legge che protegge la fauna selvatica. Non si dovrebbe parlare più di protezione ma si dovrebbe parlare di gestione e quando parliamo di gestione chiaramente ci vogliono poi delle misure efficaci perché poi alla fine non è giusto quindi che per la protezione degli animali alla fine devono pagare solo gli elevatori. Questo problema deve essere affrontato, dovremmo chiedere qualche tavolo tecnico in prefettura, dobbiamo investire del problema la regione, il parco può promuovere un'iniziativa anche a livello ministeriale. Io spero quindi che insomma a livello superiore ci diano una mano e molto può fare chiaramente anche il governo centrale perché se non si mette mano alla legge poi alla fine misure concrete che possono dare respiro a questi nostri concittadini che sono imprenditori agricoli poi alla fine il problema non si risolve.